Per me rimane centrale proprio questo fatto tribale, cioè che quando vedo un'opera rientra, sia capace di entrare in un equilibrio mentale che è l'equilibrio estetico nel quale vivo. E questo lei ci riesce, questo credo che sia la parte in assoluto più attraente. Poi il fatto che sia donna o non donna, potrebbe essere donna non è grave come se di Varese non è grave, se può anche essere di Varese, adesso sto fatto. È vero che l'Italia ha poche scultrici femmine, però è anche vero che ha pochi direttori d'orchestra femmine. Un problema nel quale non sono in grado di entrare, è una cosa che riguarda quello se ne occupano i sociologi, io faccio l'antropologo, poi sull'estetica o meno se ne occupano i critici d'arte, che sono un mestiere superiore al mio e non sono ancora riuscito a diventarlo, forse verso gli 80 anni diventano anche critico d'arte. Ma nel frattempo mi interessa il suo lavoro. Grazie.